Ho scelto Make the Difference perché è un progetto molto interessante e molto utile, si rivolge ai ragazzi e ai giovani e credo che sia importante che loro sappiano che cosa fa la differenza per loro per poter costruire il loro futuro. Ho scelto Make the Difference perché come me condivide questi valori e li vuole trasmettere ai più piccoli. Ho scelto Make the Difference perché ho voglia di aiutare i ragazzi, li voglio motivare, li voglio incentivare e voglio veramente che siano felici nella vita con le loro passioni. Ho scelto Make the Difference perché siamo tutti differenti a questo mondo. Ho scelto Make the Difference perché valorizza molto i giovani, gli adolescenti, li fa crescere ed essendo vissuto in una realtà in alcune scuole di zone non bellissime, so benissimo quanto questa cosa possa fare la differenza. Ho scelto Make the Difference perché mi interessa il futuro. Make the Difference si rivolge ai giovani e i giovani sono quelli, i padroni del futuro. Ho scelto Make the Difference perché mi piace. Ho scelto Make the Difference perché sicuramente cercare di trasmettere e dare passione ai giovani per dei progetti, per quello che vogliono realizzare è una cosa che è importante per tutti. Io faccio la differenza e ho scelto Make the Difference perché credo in quello che faccio. Io ho scelto Make the Difference perché con il lavoro che faccio condivido tantissime cose con Make the Difference. Lavoriamo tanto insieme, facciamo tanti progetti insieme e quindi questo per me fa la differenza. Ho scelto Make the Difference perché rispecchiamo tutti gli ideali in cui credo anch'io e quindi la possibilità di aiutare le altre persone, di avere tempo per le altre persone e di dare magari qualcosa in più che può aiutarle, soprattutto per i giovani, a crescere e a intraprendere la loro vita futura. Io ho scelto Make the Difference perché è un messaggio molto utile per i giovani perché quando si è giovani siete molto disorientati e sapere che c'è qualcuno che ti può aiutare a orientare le tue energie che sono potentissime da giovani è molto prezioso. Ho scelto Make the Difference perché se hai bisogno di aiuto te lo darò. Ho scelto Make the Difference perché parla ai giovani, parla alle nuove generazioni. Ho scelto Make the Difference perché si basa sui sogni dei ragazzi, sulle loro possibilità che sono tantissime.